Ciao ragazze, allora qui è arrivata la beauty box di Look Fantastic, eccola qui e niente, questo è il primo video spacchettamento di oggi ve la farò vedere, adesso adesso, e nulla, ve la apro, un ottimo solo questa è la beauty box, come potete ben vedere e spero che vi piace, perché tra poco vedrete, non vi spoilerò nulla vedete solo l'inizio, voi dovete vedere il video per intero perché farò un breve video spacchettamento per adesso è solo l'inizio di quello che avete visto e l'intero lo vedrete dopo questo video che sto per registrare, un secondo un attimo ciao e nulla, godetevi il video che a breve registrerò per voi un bacio, vi aspetto